buonasera a tutti siamo a commentare la partita di jannik sinner che ha vinto con il punteggio di 6 3 6 2 contro gerasimo un thinner che ha sbrigato la pratica abbastanza agevolmente non c'è stata praticamente mai partita jannik è andato avanti di un break praticamente quasi subito e ha chiuso il primo set breccando il suo avversario quindi su ogni set ci sono stati due break di vantaggio troppo più forte il tennista altro tesino rispetto a gerasimo e quindi sinner che si guadagna l'ottavo di finale contro ormai un avversario classico ovvero bautista agut è ormai una sfida praticamente infinita direi quindi benissimo sinner l'avversario non era un test su terra non era un test troppo impegnativo vediamo come andrà giovedì contro contro bautista quello sarà un test molto più credibile molto più e molto più attendibile per valutare il sinner sulla terra che a monte carlo non abbiamo potuto vedere perché dopo aver vinto al primo turno poi ha trovato ha trovato gioco beach e ovviamente è andato fuori per quanto riguarda gli altri risultati sorpresa almeno personale perché io avevo dato fiducia a keffer che invece ha perso da moe alber ramos ha vinto 271 contro brun thompson ha vinto 271 con gas che di musetti abbiamo parlato nel video precedente pubblic ha battuto davido vicino per 271 tiafo abbattuto lo spagnolo alcarazza il ragazzino che praticamente il la stellina spagnola a cui anch'io avevo dato fiducia invece è stata battuta abbastanza nettamente da tiafo goffè abbattuto herbert sempre per 27 a 0 chapovallo va vinto con sciardi bottista avuta vinto 27 0 con giuda quando c'è altra sorpresa personale io avevo dato tanta fiducia a caccia che invece ha perso dal norri e poi appunto sin chi ha battuto gerasimo la bella notizia per il tennis azzurro viene da belgrado perché a belgrado il nostro gianluca macera ha eliminato ger con per 27 a 0 gel che aveva fatto finale nel torneo di cagliari insomma un bel colpaccio per il per gianluca gli altri risultati del monis 271 super rankings il coreano covo son ha vinto 270 contro per il cavallo sbalena il francese ride ride in crack abbattuto 270 mondero il giapponese daniel abbattuto sosa per 270 che smanovic abbattuto bagni se anche questa una mezza sorpresina io avrei preso l'argentino a per 270 mentre mentre in onda il video siamo al terzo set tra corda e bedene e siamo al terzo set tra celundolo e poplinda con celundolo avanti 4 a 1 con un solo break 4 a 1 leggero quindi con un solo break giornata quindi positiva per il tennis azzurro sono passati infatti sia major che sin che musetti domani a barcellona ci sarà musetti e l'esordio di fognini oltre che caruso impegnato povero lui contro rubler e quindi niente ci registriamo questa buona giornata di tennis azzurro e noi ci vediamo domattina verso le nove con l'angolo dei pronostici questo oggi è stato un disastro l'angolo dei pronostici me ne scuso per chi avesse voluto seguirmi è stata veramente una catastrofe ma tennis è imprevedibile e città di fare di non beccarne forse due le ho prese due tre non di più quindi domani ci riproviamo con l'angolo dei pronostici e poi ci vediamo domani sera per i live di musetti non so se riuscirò a fare proprio il live di musetti sicuramente farò quello di fognini e quindi a domani per un nuovo video io vi invito come sempre a mettere un mi piace al video a a mettere a mettere l'iscrizione a iscrivervi a questo canale attivare la campanella per essere aggiornati sull'uscita dei video che come vedete escono subito dopo le partite poi un po di tempo per il caricamento causa lentezza inumana della mia connessione internet e quindi niente ci vediamo domani io vi ringrazio per l'attenzione a buona serata e ancora una volta buon tennis a tutti grazie a tutti Grazie.